Sarà veramente una serata di festa. Nel centro storico di Arezzo, oltre 300 attività coinvolte, davvero una bella festa di ripartenza per tutto il settore, abbigliamento ma anche food. Negozi aperti sino mezzanotte, centro pedonale, musica, intrattenimento e cene sottore stelle. Torna così la notte bianca dello shopping che celebra l'avvio dei saldi estivi. È un'iniziativa che noi facciamo da diversi anni, è un'iniziativa tutta tesa, voglio dire, allo shopping in una giornata particolare dove proprio iniziano i saldi. Il centro storico si vestirà ancora una volta a festa con tutta una serie di iniziative e promozioni per far sì che i clienti possano comunque utilizzare i saldi e acquistare fino a tarda serata. L'evento, giunto alla sua tredicesima edizione, è in programma per sabato 2 luglio. Da sempre appoggiamo questa manifestazione che quest'anno assume appunto un carattere ancora più importante perché dopo tre anni sostanzialmente si torna effettivamente e sostanzialmente a rincontrarci e a sfruttare tutte quelle possibilità nuove che comunque il nuovo commercio può mettere a disposizione degli operatori e dei cittadini tutti. Comunque la tecnologia è importante, non possiamo farne a meno, ma la relazione umana e comunque la conoscenza delle persone rimane ancora al centro della nostra missione e della nostra visione di barca. Saranno tanti gli eventi collaterali che animeranno la serata e porteranno in centro tantissimi visitatori, protagonista di questa edizione anche Piazza Sant'Agostino. Sarà veramente una piazza centrale dell'iniziativa con la notte dei colori, con il lancio dei palloncini, con tanta musica, intrattenimento e tanta comocità.